E ci ha preso male, perché normalmente ci riusciva a pagare quelle bollette che arrivavano, poi quelle un po' più grandi si cerca di faccelerateizzare, si andava abbastanza dignitosamente, però questa bolletta ultima, 900, 500, tutto insieme, noi siamo sempre regolari, quello che si può si paga veloce, pure le difficoltà ci sono, però tutto insieme così c'è crollata proprio la terra. È dal 28 febbraio che questa famiglia, retina, tre adulti e un bambino in tenera età, è senza corrente e senza acqua. Infatti in camera c'ha tre o quattro coperte pur di tenerlo al caldo. Impossibile sostenere le maxi bollette di Estra, anche se rateizzata, e così è arrivato il distacco. Cioè ci hanno detto no, finché non pagate tutto, noi non ti si riaccende la luce. La prima mail a Estra viene inviata il primo marzo, poi la famiglia, monoreddito, si rivolge a Federconsumatori. Nel frattempo il bimbo, con 104, si ammala, anche oggi la febbre era altissima. Non si può lasciare un bambino di neanche tre anni al freddo con le problematiche che ha, è un bambino per settore della 104, quindi con problematiche serie e non si può lasciare al freddo. Non è possibile che in un paese ricco, un paese avanzato, un paese Arezzo, una provincia come quella di Arezzo, non sono situazioni tollerabili. Dopo la denuncia di Federconsumatori, la vicenda è stata seguita dal vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti e dal consigliere di Estra Giovanni Grazzini. In serata arriva un generatore. Ora la protezione civile è intervenuta anche tramite il comune di Arezzo, ha portato un generatore, è una soluzione tampone, è entrata in funzione pochi minuti fa. Da Estra una nota ufficiale con la quale annuncia che la fornitura è stata riattivata ed è stato chiesto a dedistribuzione di ripristinare il tutto. Noi assolutamente stiamo verificando se ci siano gli estremi per l'interruzione del pubblico servizio. Hanno ricevuto bollette stratosferiche, bolletta mimestrale per 900 euro, un crescendo di costi insostenibili per qualsiasi famiglia, maggior ragione insostenibili una famiglia che ha queste fragilità, famiglia di lavoratori, di persone che hanno sempre cercato di adempiere alle proprie obbligazioni ma che non ce la fanno più, non ce la fanno assolutamente.